Parliamo di scuole, andiamo ad Alto Pascio dove sono tante le famiglie di origine straniera per favorire i percorsi di inclusione, ora tornano sui banchi anche le mamme. Sentiamo Alessandra Parrini. Buongiorno e bentornate alla nostra seconda lezione del corso di italiano. Una maestra e una professoressa dell'Istituto Comprensivo di Alto Pascio ci mostrano come si svolge una lezione di lingua e cultura italiana per le mamme degli alunni stranieri, 30 le signore di etnie diverse che hanno cominciato le lezioni gratuite presso la scuola primaria Pascoli. Decisamente, ne hanno bisogno non solo per la lingua ma anche proprio per socializzare con le altre mamme, per uscire un pochino di casa. È stata una sensazione bellissima. Il progetto Mamme a scuola nasce non a caso in un comprensivo di 1.350 alunni e una percentuale di stranieri del 31%. Pensiamo che abbia una grande utilità sociale ma anche pratica nei rapporti fra la scuola e le famiglie. Rapporti con l'ASL, rapporti con l'anagrafe e via dicendo. Il progetto sperimentale Mamme a scuola è sostenuto dal comune 15.000 abitanti che vuole essere comunità per tutti i suoi abitanti. Le etnie più presenti sono albanesi, rumeni, una buona percentuale di persone che arrivano dall'Africa occidentale, quindi dal Nord Africa. Abbiamo senegalesi, nigeriani, indiani, cinesi. Abbiamo iniziato dall'alfabeto perché i suoni sono completamente diversi rispetto alle loro lingue di origine e erano molto interessate. È una soddisfazione, è un piacere.